Credo che sia avviata, mi sembra di sì, e anche alla presentazione, vedo qua la registrazione partita, bene. Allora, io sono Adevede Arcangelo, qualcuno di voi forse dei nostri studenti di apriennale magari già mi conosce, sono qui appunto in veste di coordinatrice del corso di laurea magistrale in Specialized Translation e insieme a me per questa presentazione ci sono anche altri colleghi, in particolare faremo proprio la presentazione delle slide insieme io e il collega Adriano Ferraresi, poi come vedete c'è Raffaella Tonin come delegata alla didattica e le colleghe della Commissione Assicurazione e Qualità del corso di studi e anche alcuni membri della nostra segreteria. Parto subito, come dicevo prima alle colleghe, se per qualsiasi motivo volete interrompermi per, diciamo, precisare meglio alcuni aspetti tranquillamente, io non vedo la chat, quindi mentre la presentazione delle slide scorre, eventualmente fermatemi proprio e fatemi presente. ecco allora, questo è il nostro corso di studi, la pagina web del nostro corso di studi, qualcuno di voi magari ha già avuto modo di magari appunto di consultarlo, in particolare per tutti quanti immagino le persone che sono collegate può essere interessante o utile guardare proprio la pagina che adesso non so ad aprire, comunque la pagina che qui è definita come admission, dove troverete tutte le informazioni utili sul test di ammissione che al momento non è ancora, diciamo pagina che ancora non è al momento aggiornata, ma che appena avremo modo potrà essere appunto rivista da questo punto di vista e con le date ufficiali appunto che verranno comunicate. torneremo sul test di ammissione anche più tardi, perché il nostro corso è un corso che può risultare, diciamo così, con una certa attrattiva, perché la città in cui si trova fuori lì è una città di dimensioni abbastanza, di medie dimensioni, piuttosto anche se vogliamo anche piccola come una cittadina, che quindi facilita molto, accoglie molto bene, facilita soprattutto la concentrazione necessaria per potersi diciamo appunto percorrere questi due anni di studio che vi attenderebbero. Il campus in cui si trova è molto nuovo e ha delle strutture veramente molto valide e anche queste pensate proprio a misura di studente. Come vedete qui ci sono alcune foto del nostro campus, soprattutto la zona di nuova appunto costruzione nel cuore della città proprio. Il nostro corso ha anche una diciamo così una vocazione fortemente internazionale, siamo membri di diversi diciamo organismi in particolare europei, come vedete questo è il logo della European Masters in Translation, una sorta di consorzio insomma della DGT, della Direzione Generale della Traduzione della Commissione Europea, che diciamo definisce gli standard per l'insegnamento della traduzione ad alti livelli nelle istituzioni accademiche in particolare, comunque istituzioni di formazione a livello proprio europeo. Ancora altri motivi, abbiamo come vi dicevo delle strutture che sono dedicate proprio, che abbiamo per esempio un intero padiglione del campus dedicato proprio al nostro Dipartimento, perché il corso di laurea di traduzione specializzata è uno dei tre corsi di laurea che viene offerto dal Dipartimento di interpretazione e di traduzione dell'Università degli Studi di Bologna, Alma Mater. La prima diciamo notizia che può essere appunto considerata come una grande novità per i futuri potenziali studenti o candidati al test è che a partire dal prossimo anno accademico il corso di laurea in Specialized Translation, che fino ad ora ha visto un unico curriculum, in realtà dovrebbe appunto presentare due diversi curriculum, mi dico dovrebbe perché noi abbiamo fatto tutto l'iter diciamo burocratico, ministeriale di presentazione appunto del progetto che è stato approvato a livello di Ateneo, siamo in attesa di una conferma e ufficializzazione del fatto che sia stato accettato così come l'ha accettato l'Ateneo anche in sede ministeriale, però noi lo presentiamo come appunto un progetto che partirà a partire dal 2021-2022. I due curricula fondamentalmente andranno a formare persone che avranno un profilo professionale molto ben definito, in specifico il curriculum in Specialized Translation formerà traduttori e revisori specializzati nell'ambito aziendale, nell'ambito dell'editoria, lavoreranno in ambito settoriale, quindi con tutte le lingue appunto di specializzazione, così come per esempio nella comunicazione, nell'alcolizzazione di prodotti multimediali ed audiovisivi. Il curriculum invece in Translation and Technology formerà dei traduttori con una forte specializzazione in tutte le tecnologie linguistiche per la traduzione, in terminologia e nella comunicazione in multilingue e digitale e nel project management. scusate, non erano usciti, scusate. Ecco qui le opportunità future di carriere, abbiamo già detto che potrete diventare traduttori o revisori in ambiti diversi, editoria, aziendale, istituzionale, potrete diventare project manager, cioè chi coordina dei progetti di traduzione per le aziende di servizi linguistici, potrete diventare esperti in terminologi, localizzatori di videogame o di materiali o comunque contenuti web, sottotellatori e adattatori di prodotti audiovisivi, poi ci saranno anche grazie al nuovo curriculum in Translation and Technology che attiveremo una serie di nuove professioni che probabilmente potranno presentarsi a voi, quindi per esempio il manager a livello linguistico nell'ambito dei social media e appunto esperti nella gestione a livello appunto di linguaggi, the nature language in contesti multimediali anche. Questo tipo di lavori si potrà fare sia come freelance, quindi appunto in maniera autonoma, come professionisti autonomi, oppure anche appunto come impiegati presso aziende, istituzioni o enti nazionali o anche internazionali naturalmente per chi di voi appunto fosse interessato anche futuro ad andare all'estero. Allora vediamo un pochettino, adesso guardiamo i diversi curriculum una alla volta, questo è Specialized Translation, questo è l'offerta linguistica per Specialized Translation, per tutti quanti gli iscritti bisognerà avere quindi come requisiti la lingua inglese a livello C1 per poter proprio accedere, poi si potrà scegliere una lingua fra quelle che noi offriamo, ovvero cinese, francese, tedesco, russo e spagnolo e naturalmente ci vuole un'ottima conoscenza anche della lingua italiana, il livello che chiediamo in particolare per l'italiano è il B2, perché sappiate che abbiamo anche potenziali candidati e futuri studenti internazionali e il livello C1 per quanto riguarda appunto il livello di lingua inglese richiesta. Questo invece per quanto riguarda il curriculum Translation and Technology dove ovviamente anche in questo caso è richiesta per tutti la conoscenza a livello C1 della lingua inglese, si richiede di nuovo un livello B2 di lingua italiana, invece per quanto riguarda l'altra lingua di scelta fondamentalmente questa non è un requisito, nel senso che chi fosse interessato a questo curriculum può scegliere di fare un'ulteriore lingua fra quelle appunto sempre attivate e proposte, ma non è un obbligo, non è richiesto. Guardiamo un pochettino alcuni dati relativi al test di ingresso, il numero di persone ammesse, noi ammettiamo, ammetteremo l'anno prossimo 72 studenti come corte totale, questi 72 studenti sono così suddivisi, 60 saranno quelli che verranno appunto, che potranno iscriversi al curriculum in Specialized Translation e 12 quelli che potranno iscriversi al curriculum in Translation and Technology. Il test di ingresso verrà un primo appello proposto nel maggio di quest'anno e molto probabilmente l'ultima settimana di maggio, stiamo aspettando una conferma definitiva per le date del bando, ma sicuramente sarà l'ultima settimana di maggio, le date precise verranno comunque appunto poi pubblicate nel momento in cui uscirà il bando. Allora, che cosa consiste il test? Per tutti quanti, per entrambi i curriculum sarà obbligatorio sostenere un Oxford Online Test for English Competence, di cui si chiede appunto una competenza a livello C1 e poi nel caso di Translation Technology abbiamo una parte appunto di test che verrà fatta tramite un'intervista in cui gli studenti dovranno fondamentalmente, i candidati dovranno fondamentalmente affrontare un colloquio per dimostrare le loro competenze e capacità di riformulare un test di carattere tecnico scientifico. Mentre invece, purtroppo qua vedo che non c'è questa, manca questa informazione, poi quando pubblicheremo il PowerPoint in rete, perché quello che vi faremo vedere lo pubblicheremo poi anche nel nostro sito, vedo che manca questo. Per quanto riguarda invece il test in Specialized Translation, quindi il test ingresso per Specialized Translation resta fondamentalmente di nuovo l'obbligo di sostenere una prova scritta di traduzione diciamo relativa alla lingua di scelta e la direzione della lingua, quindi da e verso cui si traduce, può essere decisa dal candidato. Quindi se scegliete per esempio lo spagnolo potete decidere se fare la traduzione dall'italiano verso lo spagnolo o dallo spagnolo verso l'italiano. Mi scuso per questo errore nella slide. Per quanto riguarda il prossimo anno accademico, questo lo diciamo, in generale i nostri corsi sono sempre stati e rimangono corsi con frequenza obbligatoria, richiesta frequenza al 70% delle lezioni. L'anno prossimo di nuovo si verrà erogata una didattica cosiddetta mista, blended, quindi chi può verrà in presenza, chi invece ritiene preferibile rimanere ancora a casa in questa situazione di emergenza potrà seguire, iscriversi e seguire i corsi online. La frequenza in generale, le lezioni sono spalmate su 4 o 5 giorni, poi ovviamente gli orari dipenderanno molto anche da questa situazione appunto emergenziale che stiamo vivendo. Un aspetto molto interessante, importante per quanto riguarda i nostri corsi è che sono corsi dove al massimo ci sono 30 o 32 persone, insomma, quindi sono corsi mirati a livello proprio molto laboratoriale, molto piccoli, quindi si può lavorare molto bene, perché sono proprio di carattere seminariale. Che cosa studierete? Queste sono fondamentalmente le cosiddette materie trasversali, quindi ci sarà un pacchetto di discipline linguistiche, un pacchetto di discipline, diciamo, riferite alla specialized translation, una traduzione settoriale specializzata, un pacchetto di tecnologie per la traduzione e un pacchetto, uguale per tutti, di laboratori e seminari, attività laboratori e seminari. Qui vedete, abbiamo messo a confronto sulla sinistra quello che differenzia in certo senso i due percorsi, a sinistra abbiamo traduzione letteratura e cultura come pacchetto ulteriore, mentre invece d'altra parte abbiamo natural language processing, quindi il processamento, insomma, la gestione dei dati a livello appunto anche informatico, questo invece per quanto riguarda poi la sempre specialized translation, resta ancora attivo ovviamente un pacchetto relativo agli insegnamenti integrati relativi alla teoria, alla linguistica e alla traduzione e per quanto riguarda translation and technology abbiamo un pacchetto di corpus linguistics, cognitive translatology and terminology e infine, come vedete qua, abbiamo videogame and localization, IT, quindi videogame and localization, tutto quello che è localizzazione di prodotti per il web e appunto di videogiochi e invece appunto attività di carattere professionalizzante e pratica legata anche alla ricerca, questo in generale, adesso andiamo a vedere nel dettaglio questo cosa significa guardando le slide relative ai singoli corsi di studio, quindi cominciamo con specialized translation che di fatto è dei due curriculum, quello che rimane abbastanza simile all'attuale già esistente, però come vedremo con alcune novità. Allora, vedete il pacchetto, questi sono corsi nelle due slide, fondamentalmente vedrete gli esami che sono anche numerati, divisi per anno di corso, quindi questo potrebbe essere un primo anno di corso, teoria e linguistica per la traduzione, translation history, theory in history, con un pacchetto di 10 crediti e poi appunto text linguistics, quindi sono due moduli per un corso integrato. Il pacchetto di tecnologie per la traduzione per 10 crediti complessivi, che rispetto all'attuale diminuisce un pochettino, con moduli di info mining and terminology e di computer assisted translation and post editing, poi gli studenti dovranno scegliere due esami appunto nell'ambito delle discipline linguistiche, quindi abbiamo tra questi appunto si potrà scegliere tra cinese avanzato, French for media communication, Spanish for media communication, co-possessive discourse studies in English, advanced Russian, German for media communication. E poi abbiamo la traduzione letteratura in culture of the language of choice, ancora una volta sempre rispetto al pacchetto di lingue che si è deciso, quindi per la lingua che si è scelta e per cui si è superato l'esame, avremo sia la traduzione per l'editoria o appunto traduzione editoriale, diciamo così, che le church and culture, per un pacchetto sempre di, in questo caso, 11 crediti e lo stesso viene fatto sia per la lingua inglese che per l'altra lingua di scelta. Poi abbiamo questo più o meno nell'ambito del secondo anno, una volta che avrete per esempio appunto nel primo anno acquisito tutta una serie di competenze sia teoriche, faccio riferimento a questo gruppo di studi, sia di carattere proprio anche pratico nell'ambito delle tecnologie per la traduzione e acquisito già anche una certa competenza linguistica o confermata, migliorata una certa competenza linguistica, affronterete proprio nel secondo anno le traduzioni più settoriali e più specializzate, per esempio Translation in Media Accessibility e anche un altro modulo per, relativo alla lingua di scelta, ok? Quindi le Specialized Translation in questo caso sono sia attiva che passiva, quindi se scegliete il russo farete sia traduzione specializzata da e verso la lingua russa. Qui abbiamo messo gli electives, i cosiddetti opzionali per un pacchetto totale di 12 crediti, però da questo punto di vista sono qui inseriti ma fondamentalmente come vedrete potrete fare gli opzionali in diverse modalità, potete anche scegliere di farli già dal primo anno, ok? Anche se sono inseriti in questa slide. Che cosa c'è di grande novità in questo percorso della Specialized Translation? Che abbiamo immaginato di rendere molto più flessibile, più vario e sicuramente più professionalizzante il corso dei studi, grazie a una serie di attività che sono presenti in entrambi i curriculum e che sono le cosiddette attività di laboratorio e seminariali, ok? Al primo anno ne farete uno e al secondo anno un secondo, li abbiamo definiti basic skills o advanced skills a seconda dei contenuti dei singoli laboratori che ogni anno verranno attivati e che ogni anno potranno essere vari e differenziati, non è che necessariamente saranno gli stessi che vengono attivati ogni anno, ce ne saranno alcuni che magari sì vengono riattivati ed altri che magari possono essere anche attivati quello specifico anno. e poi appunto l'altra novità è che ci sarà un'altra attività legata all'esame finale, quindi al lavoro della tesi, precedente anzi al lavoro della tesi per un pacchetto di precrediti fermativi, c'è un'attività di didattica innovativa, service learning, legata anche proprio a un concetto di traduzione motivato con finalità anche proprio fortemente etica perché fondamentalmente e partiremo quest'anno con questa attività sperimentale con gli studenti che sono già dentro il corso di laurea, si formerà un'agenzia di traduzione interna al corso che collaborerà con delle ONG, quindi con delle agenzie no profit per fornire dei servizi appunto di traduzione ovviamente non retribuiti, quindi con una forte finalità legata al territorio o appunto a questa vocazione anche etica che aiuterà nei nostri intenti a crescere sia dal punto di vista professionale perché dovrete proprio lavorare come agenzia sia in futuro proprio anche come come cittadini proprio perché il service learning vi avrà dato anche questa competenza e questa capacità di relazionarvi rispetto appunto a questo tipo di esigenze. Quindi nel complesso appunto il corso di studi nei suoi due curriculum, adesso lascerò poi la parola dal collega Ferraresi perché vi presenti invece il curriculum di Translation and Technology, si pone o si propone con appunto una potenziale maggiore flessibilità di scelta data a chi si iscrive, perché come abbiamo visto voi potrete, dovrete fare una di queste attività al primo anno e una al secondo anno, però è anche vero che potrete scegliere per esempio all'interno degli opzionali di aggiungere, moltiplicare il numero dei laboratori, quindi per un laboratorio da tre crediti più un laboratorio da tre crediti fa sei crediti e quei due laboratori ulteriori vi potranno dare i sei crediti dei dodici che farete come opzionali, che ricordiamo gli opzionali sono corsi che possono essere scelti all'interno di tutto quanto l'Ateneo di Bologna, quindi che vengono erogati non necessariamente al nostro dipartimento ma in tutti i corsi di studio, però appunto tra gli opzionali potete aggiungere attività laboratoriale, seminalizzare di carattere professionalizzante se questo per esempio è di vostro interesse. Ancora dal punto di vista delle potenzialità e della flessibilità, questi tipi di insegnamento per esempio qua delle lingue, se voi avete scelto ad esempio francese però avete una competenza anche di tedesco che volete continuare a studiare, a portare avanti, quello che potete fare è proprio fondamentalmente inserire nel vostro piano di studi i corsi sia a carattere di lingua o anche le traduzioni relative appunto a una lingua altra che non è quella con cui siete entrati, per cui avete fatto il test d'ingresso. Ulteriore novità è che per chi volesse appunto immaginare di voler fare una domanda in questo senso, sarà possibile anche decidere di scegliere di fare due lingue per tutte le attività che sono di carattere linguistico relativa alle traduzioni e alle letterature dove non c'è la combinazione con l'inglese, quindi di farlo per esempio scegliendo spagnolo e russo, ok? Ripeto, l'inglese è lingua di obbligo perché ci sono tutti i corsi trasversali che vi ricordo sono questi appunto, in particolare e i corsi trasversali vengono proprio erogati in lingua inglese perché il nostro è un corso internazionale, quindi bisognerà superare questo test ed entrare con l'inglese come obbligatoria, però una volta entrati e una volta iscritti potrete fare domanda dicendo io preferirei non studiare o non fare il percorso delle traduzioni, percorso linguistico e percorso relativo alla letteratura in lingua inglese ma in un'altra lingua, ci sarà poi una commissione che viene appunto attivata proprio per gestire queste domande e ovviamente a seconda della richiesta che fate, della combinazione linguistica che richiedete di poter appunto frequentare e in base proprio anche alla sostenibilità del corso di laurea, la commissione valuterà le domande e vi dirà se questo è possibile oppure no. Ok, io adesso... Domanda? Sì. Mi sente? Sì, sì, sento. Sì, salve. Allora, volevo chiedere una mia curiosità. Linguistic for translation, I see, che sto vedendo sul sito, comprende corpus linguisting e text linguistics. Volevo capire, siccome non era molto chiaro di cosa trattavano e anche magari qualche informazione sull'esame che non è proprio chiaro. Grazie. Sì, va bene. Allora, per quanto riguarda, diciamo, text linguistics anche quest'anno, non guardate quello che c'è relativo allo scorso anno, guardiamo questo slide. L'anno prossimo text linguistics che è l'analisi testuale fatta in lingua italiana e un'analisi testuale quindi di carattere linguistico, puramente linguistico, però mirato a futuri traduttori. Ok, quindi si impara fondamentalmente ad analizzare un testo dal punto di vista e con gli strumenti della linguistica italiana proprio per poter migliorare e affinare le proprie capacità linguistiche, le proprie consapevolezze linguistiche in vista appunto per la futura professione di traduttori. per quanto invece riguarda corpus linguistics è un corso che insegna fondamentalmente a, diciamo, a studiare e capire come le lingue si muovono, come funzionano le lingue attraverso proprio delle analisi di corpora, quindi si raccolgono, i corpora sono degli enormi contenitori insomma in cui ci sono testi e poi nello studio appunto dei corpora tu puoi andare a vedere come una lingua funziona in un particolare, in un particolare contesto che stai studiando, vuoi vedere se quella termine è utilizzato insieme a quell'aggettivo nello specifico e puoi vedere attraverso i corpora in quale genere testuale questo è utilizzato, come funziona la lingua, grazie proprio a dell'analisi di carattere statistico e computerizzato, quindi questo è quello che si apprende nei test, nei corsi di corpus linguistics, poi lascio la parola anche magari al collega Adriano per migliorare anche quanto da me detto. Per quanto riguarda il test, mi scuso ancora perché purtroppo nella versione che abbiamo scritto qua ho visto che manca fondamentalmente un'informazione, quindi per il test che si farà appunto nel mese di maggio il primo appello e poi a cui seguirà un secondo appello tra fine giugno e inizio luglio, avrete in maggio e a fine giugno l'OPT che è il test di ingresso relativo proprio alla conoscenza della lingua inglese, quindi è un online test gestito da un sistema appunto dell'Università di Oxford, scusate la catetrice Oxford University Press che proprio gestisce e dà appunto i punteggi anche, quindi è tutto online. Dopodiché per il curriculum in specialized translation si dovrà affrontare una traduzione scritta nella lingua che si è scelta come seconda lingua di studio che quindi affiancherà l'inglese e la direzione o passivo attiva quindi o da russo diciamo verso italiano oppure da italiano a russo verrà indicato appunto al lato dell'iscrizione quindi si farà un test scritto di traduzione, sono 200 parole di testo che dovranno essere prodotte nella lingua che si è indicata. Mentre invece per quanto riguarda chi è interessato a iscriversi a translation and technology bisognerà affrontare una colloquio in cui verrà inviato un testo di natura diciamo tecnica scientifica, si farà leggere questo testo e si chiederà di riformulare il testo, fare una sorta di perifrasi, parafrasi del testo e riprodurlo appunto per far vedere quanto si è capito di questo testo. Questo è un po' il senso dei due test che verranno chiesti. Mi scuso ancora per questo errore nelle slide ma come vi dicevo verranno chiariti e poi anche adesso se volete fare ulteriori domande le possiamo di nuovo rivedere. Vi dicevo che per quanto riguarda le due modalità sarà possibile anche fare i test per entrambi i curriculum se qualcuno fosse interessato, però fondamentalmente sono modalità diverse non nella prima fase che è una frase diciamo così di scrematura. L'Ockford online placement test dice chi tra i candidati ha il livello C1 che noi richiediamo di lingua inglese. Chi poi supererà questa prima parte dei test dovrà affrontare nel caso di Specialized Translation una traduzione scritta da o verso la lingua che si è scelta per poter affrontare il test e l'italiano quindi la direzione viene scelta dal candidato e invece per chi vuole provare a entrare a Translation Technology ci sarà un colloquio su una materia che è di natura tecnico-scientifica in lingua inglese o in una delle lingue comunque scelte. Un ulteriore elemento relativo sempre al test è che tutti i test sia l'Oxford, sia quello online, quindi sia l'OPT, sia i test scritti in traduzione, sia il test di colloquio verrà svolto tutto a distanza, non ci sarà nulla in presenza fuori lì, come abbiamo fatto esattamente lo scorso anno in modalità appunto di emergenza sanitaria. Scusi, avrei una domanda. Per la padronanza della lingua italiana si dovrebbe presentare, fare un esame? No, per la padronanza della lingua italiana per quanto riguarda Specialized Translation lo verifichiamo attraverso il test di traduzione quindi sarà il test di traduzione che ci dirà quanto voi siete in grado di o capire un testo dalla lingua italiana verso la lingua appunto in cui state traducendo oppure vedere la vostra padronanza della lingua italiana se in quel caso producete la traduzione in lingua italiana. Per quanto riguarda l'esame di Translation Technology, la interview, il colloquio, si svolgerà in inglese e in parte anche in italiano, quindi sarà quello il momento in cui si verificherà la conoscenza. Grazie. Ok. Allora, io a questo punto... Scusi, posso fare una domanda? Sì, certo, sì. Allora, in verità ne avrei due brevi. Volevo chiederle innanzitutto se fosse possibile esercitarsi da qualche parte per, diciamo, il placement test, dato che mi sembra di aver visto su internet che sono più o meno tutti a pagamento, non c'è una simulazione. E la seconda domanda, invece, se ovviamente la registrazione al corso dell'università seguirà, diciamo, il superamento del test, cioè non bisogna farla prima, giusto? Allora, la prima domanda l'ho capita bene e ti dico che non abbiamo proprio noi la possibilità di farvi fare il test, però stiamo valutando anche con il CLA di, appunto, inserire in rete delle indicazioni precise su quello che sarà, appunto, l'Oxford Online Placement Test. Alcune di queste informazioni sono già, quindi, come è concepito, che è divisa in due parti, una parte di Use of English e una parte di Ascolto, ci sono già, se guardate nel nostro sito, ci saranno di nuovo quando uscirà il bando, anche nel bando stesso viene indicato, però stiamo valutando se col CLA, appunto, inserire un, appunto, un modello eventuale di domanda o di test per potervi far capire come affrontarlo. Non potrete prepararvi tanto, perché comunque per poter preparare il test è quello ed è, non possiamo farvene fare troppi, però possiamo probabilmente mettere una sorta di modello di domande in modo che riuscite a capire il senso e il livello che vi viene richiesto. L'altra domanda, scusa, non sono certa di averla capita, ti chiedo se vuoi ripeterla. Sì, sì, intendevo l'iscrizione all'università si farà solo dopo aver fatto il test, giusto? Certamente, si farà solo dopo aver fatto il test, però faccio presente questo, che può essere un'informazione utile, che voi sostenete il test una volta che l'avete superato, verrete messi in una graduatoria, se rientrate nella graduatoria dei 60, poniamo, o dei 12, dei 60 per Specialized Translation o dei 12 per Translation and Technology, diciamo, candidati che hanno superato e che sono risultati quindi vincitori del test, a quel punto potrete passare alla fase successiva, che è quella dell'iscrizione al test. Vi dico anche che, rispetto appunto a test passati, non è così scontato che tutti si iscrivano, quindi sicuramente avete una possibilità anche di, eventualmente, se qualcuno rinunciasse all'iscrizione e voi non siete risultati tra i vincitori, ovviamente di poter scorrere la graduatoria e rientrare magari fra coloro che invece poi riescono ad essere pescati. Tutto quanto questo può essere fatto anche se voi non avete completato il percorso di studi, perché la laurea triennale, per quanto riguarda noi, deve essere conseguita entro il 16 di dicembre del 2021. Ok? Quindi potrete fare l'iscrizione, procedere all'iscrizione, anche senza aver conseguito la laurea. Mi scusi, un'ultima domanda tecnica al volo. Se avessi bisogno di informazioni tecnico-specifiche sugli esami, per esempio, a chi potrei rivolgermi in futuro? Allora, noi adesso scriviamo, faremo vedere anche dei contatti alla fine, una slide con tutti i contatti a cui potrete tranquillamente scrivere e queste persone o vi rispondono direttamente oppure vi indicano a chi potete chiedere. Ok? Perfetto. Grazie. Se non ci sono altre domande rispetto a questo, adesso do la parola a… Un'ultima domanda, ma mi spesso interrompere. Volevo chiederle, ma ci sono un numero di posti specifici per combinazioni linguistiche? Sì, ci sono. Nel bando verranno definite, verranno scritte esattamente quali sono i numeri per le combinazioni linguistiche, fondamentalmente. Comunque sono gruppi abbastanza piccoli, insomma. Però nel bando viene precisato anche quanti ne prendiamo di spagnolo, quanti ne prendiamo di russo, quanti di tedesco, eccetera. Se questa è la domanda, credo di aver capito. Potete mettere le vostre domande anche sulla chat. Sì, esatto. Allora, adesso io in questa fase darei la parola ad Adriano Ferraresi che procede nella presentazione. Ci sono, eccomi. E il curriculum di Translation in Technology. Esattamente. Io sono Adriano Ferraresi, ho insegnato e insegnerò tecnologia per la traduzione nell'attuale corso di Specialized Translation e continuerò a farlo anche nella nuova veste di questo master. E più che soffermarmi sui contenuti specifici degli esami e sui contenuti, saremo felicissimi di rispondere magari alla fine, mi piacerebbe darvi un'idea del perché abbiamo sentito il bisogno di creare questo nuovo curriculum, perché crediamo ci sia bisogno di creare un curriculum del genere. E sapete probabilmente che una delle cose, uno degli aspetti che ha sempre caratterizzato la laura magistrale in Specialized Translation o anche prima in traduzione specializzata è il fatto di formare traduttori. Scusa Adriano, ti dico una cosa. Forse è una zip perché sento che si sbatte secondo me il tuo microfono contro qualcosa. Contro qualcosa, ok. Sì, ci sto attento. Abbiamo sempre formato traduttori, traduttrici con forti competenze tecnologiche, è per questo che siamo conosciuti almeno a livello nazionale. Con questo nuovo curriculum abbiamo voluto fare in qualche modo il passo in avanti, cioè creare esperti di tecnologie, quindi spingere ancora di più sulla parte tecnologica, creare esperti di tecnologie che abbiano anche forti capacità traduttive. Perché c'è bisogno di questo tipo di figura? Immagino che non ci sia bisogno di dirvi quanto le tecnologie linguistiche, e qui sto pensando ad esempio alla traduzione automatica, abbiano fatto passi da gigante negli ultimi cinque anni. C'è chi dice i traduttori spariranno, le traduttrici spariranno, non crediamo assolutamente che sia vero, crediamo ci sarà sempre bisogno di traduttori, ma ci sarà anche sempre più bisogno di persone che in qualche modo non siano utilizzatori di traduzione automatica o altre tecnologie, ma che siano proprio in grado di guidare lo sviluppo, quindi non di subirlo questo sviluppo, ma di guidarlo. O non di parteciparvi e basta, ma anche proprio di guidarlo. Quindi persone che siano in grado di parlare con gli sviluppatori di software, non vogliamo trasformarvi in sviluppatori di software, non è assolutamente quello lo scopo o in informatici, ma lo scopo è mettervi in grado di essere le persone che fanno in qualche modo da tramite, tra gli sviluppatori di software e delle tecnologie, appunto di nuovo pensate alla traduzione automatica, e invece i traduttori che queste tecnologie le usano. In generale, figure che siano esperti multilingue, quindi che conoscano molto bene le lingue e che conoscano molto bene le tecnologie. Ora, evidentemente una figura professionale nuova, rispetto a quella del traduttore che esiste da sempre, questa figura è una figura decisamente nuova. Ma noi sappiamo, diciamo prima di imbarcarci in un'impresa del genere, abbiamo studiato, mettiamola così, e abbiamo cominciato a capire dove fosse il bisogno di queste figure, ad esempio tramite un progetto europeo, stiamo conducendo un progetto europeo in cui guardiamo quali figure sono richieste sul mercato che abbiano competenze linguistiche e tecnologiche. Abbiamo fatto un piccolo sondaggio negli ultimi due mesi, un mese e mezzo diciamo, abbiamo trovato 200 annunci di lavoro che cercano più o meno persone con queste competenze, che possono essere assunte nei campi diciamo tradizionali, dove sono assunti anche i traduttori, quindi agenzie di traduzione, aziende che non si occupano di lingue oppure istituzioni internazionali, ma anche aziende molto grosse con una forte componente tecnologica tipo Facebook e Amazon, per darvi i nomi che conoscete. Senza l'altro fatto che testimonia del bisogno di un curriculum del genere, esistono vari master come questo all'estero, soprattutto Germania, Olanda, Inghilterra. in Italia non esiste, un curriculum del genere ancora non esiste per questo siamo felici di essere tra i primi che lo offrono. Sui contenuti del curriculum. È un curriculum molto incentrato sulla professione, quindi esami che vi permettano di diventare esperti di tecnologia. E qui guardo solo questa slide, sto pensando ad esempio al corso di Translation Technologies, al corso di Terminology, sto guardando questo esame di, questo modulo diciamo di Professional Practice and Applied Research, che è il tirocinio. Sarà un tirocinio molto molto corposo, di 10 crediti, a cui viene aggiunto un piccolo progetto di ricerca. Perché effettivamente l'altra componente, oltre quella professionalizzante, è le capacità di ricerca. Non pensate solo alla ricerca accademica, pensate alla ricerca come quel, diciamo, quel set, quell'insieme di metodi che vi permettono di vedere i problemi esistenti e di risolverli. Ricordatevi che se dovete guidare lo sviluppo delle tecnologie, dovete essere in grado veramente di capire quello, quello che sta succedendo, di analizzare dati. Giusto una parola sugli altri esami che vedete qui. Diciamo i corpus di, i moduli di Cognitive Translation che si rientrano più nell'aspetto di ricerca, del curriculum. Per quanto riguarda le discipline linguistiche, giustamente Adele prima diceva che non è necessario avere due lingue, quindi, scusate, un'ulteriore lingua, oltre all'italiano e all'inglese, è verissimo. E questo perché ci aspettiamo che magari alcune delle persone possano avere magari competenze in italiano e in inglese ed essere molto esperte di informatica e non avere, diciamo, una terza lingua tra cinese, francese e spagnolo. Per favorire, diciamo, l'integrazione di persone con competenze più tecnologiche, più linguistiche, non abbiamo messo una seconda lingua obbligatoria. In generale ci aspettiamo comunque che la maggior parte degli iscritti abbia una seconda lingua. Non è necessario. E qui magari andiamo avanti. Mi sa che è saltata una slide. Ok. Questo è il secondo anno dove effettivamente vengono trasmesse anche le competenze di traduzione con un esame per tutti di traduzione specializzata tra l'inglese e l'italiano e un secondo esame dove potete scegliere tra una traduzione attiva o passiva tra l'italiano e un'altra lingua, ok? Quindi tra cinese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Oppure, per chi non avesse una di queste lingue, un esame di audiovisual translation che in questo caso è un esame più tecnico, diciamo che si concentra di più sulla parte tecnica del processo traduttivo piuttosto che sull'aspetto linguistico e che userà come lingue di lavoro, diciamo, l'italiano e l'inglese. Language data analysis and processing sono due esami, diciamo, di programmazione nel caso di language data analysis di natural language processing e poi se volete vi dico un po' di più su questo esame e language data analysis è effettivamente di analisi di dati linguistici e vedete in fondo laboratories and seminars che è lo stesso concetto di laboratori e seminari che c'è anche nel corso di specialized translation. In effetti qui ci aspettiamo che gli studenti dei due curricula si mescolino perché effettivamente sono offerti a tutti indipendentemente dal curriculum. La differenza è che nel caso del curriculum in translation and technology i sottomoduli da prendere sono quattro invece di due e sono tutti e due al secondo anno. E qui direi che andiamo avanti. Altre attività durante, diciamo, altre possibilità che avrete durante il master. Molte opportunità di mobilità internazionale sperando che ci potremo muovere presto. Un tirocinio che esiste sia per Spectra che per Tratec, quindi Specialized Translation in translation and technology. Nel caso di translation and technology i crediti previsti sono il doppio rispetto a quelli di Specialized Translation che comunque ha aumentato di un credito il peso del tirocinio rispetto al curriculum attuale, diciamo al curriculum esistente. E infine una tesi finale che comprende la tesi e questo modulo di Service Learning che è anche per gli studenti di Trate. Quindi un'ulteriore occasione, diciamo, di mescolarsi. Ci aspettiamo veramente che non siano due curriculum separati ma che possano in molte occasioni unirsi. In effetti anche gli studenti di Specialized Translation che volessero prendere alcuni degli esami che sono solo in translation and technology o viceversa, è una cosa che incoraggiamo. Esattamente, sì. In questo caso ribadisco che proprio anche nell'ambito del concetto di flessibilità con cui abbiamo creato questo nuovo proposto di formativa proprio quello che dice il collega Ferreresi è assolutamente vero e confermo ci si potrà appunto muovere scegliendo tra gli elective opzionali appunto corsi che sono di uno dell'altro curriculum. Scusate, ci sono poi due domande in chat che secondo me forse hanno un po' un peso perché ve le leggo così non vi... Afsa, spero di averlo pronunciato correttamente, chiede, io vorrei chiedere se è possibile tentare l'ammissione a un solo percorso per volta. No. C'è Chiara Giorgini che chiede invece qualora non passassimo il primo appello si potrebbe ritentare il test al secondo appello? Allora, per quanto riguarda il ritentare il test si può ritentare soltanto l'Oxford online placement test quindi quello è un test che potete fare nella sessione di maggio oppure nella sessione di fine giugno ok, quella estiva. Invece il test vero e proprio sarà in una giornata stabilita e sarà quello. Ovviamente l'unica distinzione è che quello per Tratte quello per Translation in Technology e quello per Specialized Translation verranno fatti su due giorni distinti insomma. Ed è fatto su due giorni distinti appunto per permettere a tutti e tutte eventualmente di farli entrambi. Andrei molto veloce sulle opportunità di mobilità internazionale sono tutte cose che più o meno conoscete almeno l'Erasmus, l'Overseas non so il Matching Double Degrees magari su questo lascio la parola alla fine alla collega Gloria Bazzocchi che vi dice qualcosa sul titolo doppio con l'Università di Rosario però andrei avanti giusto per arrivare alla fine e lasciare più spazio alle domande. In generale, e anche qui non mi soffermerò tanto il nostro approccio è quello di offrire quante più possibilità possibile per permettere a tutti di trovare la propria strada. Quindi cooperazione con la Commissione Europea per chi fosse indirizzato più a un percorso istituzionale molti incontri con sia studiosi studiosi e studiose che membri delle associazioni professionali oppure sul lato diciamo più culturale abbiamo un centro molto attivo di studi sulla traduzione su genere traduzione e infanzia che ha anche una collaborazione molto attiva con la Fiera del Libro per Ragazzi e Ragazze. E di nuovo qui sono tutte occasioni in cui voi potrete conoscere i vostri futuri datori di lavoro quelli che speriamo saranno i vostri futuri datori di lavoro. Tra le varie attività segnalo giusto il Language Toolkit Project quindi il progetto Toolkit che è una collaborazione tra il nostro Dipartimento e la Camera di Commercio della Romagna che prevede un tirocinio oltre al tirocinio curricolare di 300 ore in collaborazione con aziende locali che è legato alla tesi finale quindi passare molte ore in azienda per poi sviluppare un progetto di ricerca e pratica legato a bisogni concreti di aziende locali. E qui siamo alla fine lasciamo i nostri contatti. Esatto, questi sono i contatti ovviamente potete scrivere a me questo in realtà è esattamente l'alias a cui scrivere fondamentalmente spectradiprinta.it vi risponderà un team di persone in tempi abbastanza solleciti e rapidi e ognuno di voi di questi saprà o rispondere direttamente oppure indirizzarvi ad altri. Questo invece è l'indirizzo della nostra tutor la nostra studentessa tutor che non è oggi presente non ha potuto essere oggi presente per motivi personali ma che anche lei potrà darvi indicazioni e sostenervi in questo percorso. Ok, allora se ci sono a questo punto invece domande io magari vedo anche se ci sono appunto le chat. Allora c'è Mattia che chiede in riferimento a Specialized Translation quali sono le materie più teoriche e quelle più tra virgolette pratiche? Sì, le materie più teoriche sicuramente sono tutte quelle che riguardano in parte la teoria della traduzione Text Linguistics se vogliamo ma in un certo senso forse anche appunto Coppus Linguistics ha una sua diciamo è un suo ambito di disciplina proprio che è volta o verso la ricerca verso futuri percorsi di ricerca mentre invece sicuramente dal punto di vista più pratico tutte le traduzioni le cosiddette translation sono tutte quante attività laboratoriali ma anche quelle per esempio che sono legate alle tecnologie sono proprio attività che vengono fatte in laboratorio con forte diciamo una forte invocazione professionalizzante lo stesso per tutti gli ambiti di traduzione audiovisiva tecnico-scientifica cosiddetta settoriale editoriale eccetera Poi Karim fa una domanda credo relativamente poi una volta che si è stati ammessi dati che posti sono limitati si può comunque assistere da uditori a più corsi cioè senza per forza essere costretti a dare l'esame ma per una credo una crescita personale Allora questo cioè chi non è iscritto quindi la domanda è come esterno al corso di studi si può fare domanda per poter frequentare un corso dico già preannuncio che molti dei nostri corsi sono chiusi diciamo così perché noi abbiamo proprio i laboratori e quindi non permettiamo fondamentalmente di perché abbiamo dei posti proprio limitati e quindi non accogliamo tanta gente soprattutto nell'attività laboratoriale mentre invece i corsi per esempio di letteratura o di teoria della traduzione eccetera quelli sono più aperti se posso giusto aggiungere sul fatto sul fatto dei laboratori effettivamente anche se non siamo in presenza quindi se non tutti saranno nei laboratori in ogni caso molti dei software sono software che stanno fisicamente sui computer dei laboratori per cui diamo la possibilità agli studenti di connettersi ai computer dei laboratori ma comunque il numero dei software disponibili che utilizziamo in classe è limitato nonostante non siamo tutti nel laboratorio comunque abbiamo necessità di tenere limitato il numero delle persone e quindi la precedenza viene data agli iscritti ovviamente la domanda rispetto a per quanto riguarda la seconda lingua obbligatoria in specialized translation qual è il livello richiesto mi verrebbe da dirti indicativamente un B2 come livello o analogo diciamo livello per lingue tipo russo o cinese il double degree con l'università di rosario scusami rosario argentina gloria vuoi dire qualcosa tu scusami su questo Sì no molto brevemente l'università di rosario in argentina è un doppio titolo che vede la partecipazione di tre nostri studenti fino a tre e anche accogliamo tre studenti di rosario ed è previsto la permanenza di un anno intero in argentina se le condizioni lo permetteranno ci auguriamo di sì il secondo anno si parte all'inizio del secondo semestre quindi si fanno tre diciamo semestre in italia tutto il primo anno la prima parte del secondo poi si trascorre invece diciamo da gennaio a dicembre del secondo anno quindi tornare in tempo per potersi laureare a marzo chiaramente è un'opportunità molto importante a cui teniamo molto perché la crescita culturale linguistica sia per l'inglese che per lo spagnolo chiaramente perché poi lì è un corso anche con molte materie in inglese insomma quindi ne parleremo una volta entrati è per gli studenti che studiano chiaramente spagnolo e inglese certo sì questo è ovvio allora domanda di Domizia potrebbe brevemente ripetere la questione dell'Oxford allora l'Oxford online placement test è un test diciamo così che noi utilizziamo per testare il livello C1 di lingua inglese quindi tutti quanti i candidati sono tenuti a sostenere questo test chi supera questo livello questo test che è un test online che ha appunto quindi viene viene proprio gestito non da noi come università ma proprio dalla Oxford University Press ok quindi e poi in tempo reale dà il risultato quindi il giorno stesso in cui lo sostenete noi sapremo se voi avete superato o meno il test e lo comunicheremo tutto questo verrà riportato nel bando una cosa che può essere utile sapere è che il test appunto ha due parti una parte di use of English che sono un po' i test gli esercizi a cui probabilmente siete abituati se avete fatto un percorso anche in passato di studio della lingua quantomeno inglese per esempio appunto multiple choice test oppure dove c'è un blank una quindi filling in the blank kind of exercises e poi una parte invece di listening comprehension quindi sono due momenti mezz'ora di use of English e appunto una parte di listening di listening comprehension si ascolta un brano e anche lì c'è una domanda con una serie di risposte e una sola è quella corretta questa per quanto riguarda come è concepito il test quello che è possibile fare è sostenere il test in una prima sessione a maggio se chi non lo supera desidera comunque ritentarlo perché magari è comunque si è posizionato con un punteggio che è quasi vicino al C1 ma per poco non ce l'ha fatta oppure perché gli sono capitate delle domande che in quel momento non sapeva e vuole riprovarlo può farlo tranquillamente a giugno ok? senza ripagare la tassa di iscrizione dimmi domizia fammi sapere se va bene quanto ti ho risposto se erano altre o altri dettagli che volevi conoscere sì cioè quindi è a nostro carico il pagamento e interessarci a farlo ecco come per qualsiasi test universitario oggi come oggi per i test con numero programmato come quello che noi offriamo è necessario iscriversi per poter dire che tu vuoi sostenere il test seguendo con molta attenzione quello che c'è scritto nel bando che verrà appena verrà pubblicato e sostenere i test che sono richiesti nello specifico il nostro test ha un costo nessuno mi ricordo se costa 30 o 40 euro l'iscrizione però ecco ha un costo insomma forse Adeleno forse interpreto bene anche il dubbio però diciamo questo test lo organizziamo in date precise per cui lo farete su nostra su nostra istituzione non è che potete fare l'OPT ah no no il test lo dovete fare lo dovete fare nei giorni che noi indicheremo da bando ci saranno proprio dei giorni specifici non si può fare così non è come il talk non facciamo una confusione perché magari appunto il talk so che si può fare a livello nazionale ma non è così noi organizzeremo questo test eroghiamo questo test e lo sosterrete nelle date che noi avremo indicato l'unica diciamo se volete diciamo dal punto di vista della gestione del test è che non siamo noi a correggerlo è appunto Oxford che nel suo sistema computerizzato che corregge e eroga proprio dal punto di vista proprio delle domande il test noi semplicemente lo metteremo nelle condizioni di poterlo sostenere assolutamente grazie mille mi sembra di aver capito male quel fatto che fosse esterno all'università così ma no 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 è esterno nel senso che la correzione del test non dipende da noi non dipende da noi ed è in questo senso ma voi lo fate all'interno del nostro sistema e siamo noi che organizziamo le date che organizziamo la procedura per poterlo sostenere grazie grazie scusa se non mi sono spiegata bene Adele scusa intervengo un attimo perché se ho capito bene le domande su anche prima avete fatto domande in cosa consiste questo corso volevo ricordare a tutti che ci sono le guide online di tutti i nostri insegnamenti quindi se andate sul sito del corso andate sul programma sono relative a quest'anno però lì avete tutta l'informazione dei contenuti della tipologia di esame quindi vi può essere utile per capire cosa facciamo perché oggi purtroppo in un'ora facciamo un po' fatica a spiegarvi nel dettaglio però lì sono veramente informazioni utili quindi al di là di scrivere una mail a un professore che insomma magari in questo momento ha anche altre cose da fare non è detto che vi risponda subito nelle guide web sono lì a posto poi se c'è proprio qualcosa di specifico siamo a vostra disposizione noi siamo comunque disponibili a rispondervi quello che ci tenevamo tanto a dire è che comunque c'è una appunto una grande novità dal punto di vista di che cosa come offerta formativa dal punto di vista sia di una nuovo curriculum che viene proprio lanciato a partire dal prossimo anno accademico e che quindi potrà come ha spiegato il professor Ferraresi rispondere o formare per professionisti che per il futuro magari appunto potranno accedere a nuove anche professioni o in ambiti che per cui sembra appunto crescere la ricerca la richiesta dal punto di vista del mercato ma anche che abbiamo rinnovato comunque anche il corso attuale rendendolo più secondo noi insomma anche appealing accattivante dal punto di vista proprio della dinamicità e delle possibilità che avete della flessibilità di cui parlavamo che avrete appunto di muovermi eventualmente fra un curriculum e l'altro o comunque di fare attività che sono appunto particolarmente appunto con delle nuove appunto proposte in questi pacchetti di attività seminariali che è proprio un sistema che integriamo inseriamo e che prima appunto non esisteva proprio nella nostra proposta didattica quindi la nostra l'idea la nostra speranza è poter appunto rispondere appunto ad esigenze e a potenziali curiosità che futuri candidati studenti potranno avere attivando aprendo appunto con un curriculum nuovo e con un rinnovamento di quello attuale proprio a delle particolari percorsi dove siamo convinti che potrete collocarvi anche poi bene per il futuro a livello professionale come è sempre stato con i nostri corsi che proprio hanno degli ottimi standard rispetto appunto a persone che sono laureate da noi e che poi attualmente lavorano in vari settori legati proprio al percorso di studi fatti di soddisfazione anche eh da parte degli studenti per il corso che hanno seguito non so dire se il 95% di nostri studenti rifarebbe di nuovo il percorso ehm già già appunto ehm seguito eh e se dovesse potesse se volesse o potesse rifarlo insomma come dire che è una conferma del fatto che ehm appunto ehm è un corso che guarda il futuro e che ehm ehm anticipa addirittura in un certo senso proprio grazie a questo nuovo curriculum che ehm esiste soltanto o esisterà soltanto a Unibo insomma anticipa molto ehm anche potenzialità future ma le stai leggendo le domande? no allora aspetta no eccole sì comunque sono due domande riguardanti ma sì allora dunque per quanto riguarda la traduzione del testo siccome si farà online il testo fondamentalmente lo farete a casa per cui l'edizionario cartaceo non è che proprio possiamo parlare l'edizionario cartaceo noi fondamentalmente eh indicheremo appunto magari anche edizionali che si potranno usare sono duecentoparole e i modelli di test che abbiamo utilizzato fino ad ora sono anche reperibili nel nostro nel nostro sito web sono aggiornati insomma e quello è un un modo per potersi eh preparare per il ricordo appunto che il test verrà svolto nella sua interezza tutto online sia le sessioni per l'OPT sia la parte di traduzione sia i colloqui verranno svolti tutti in maniera telematica e con ehm indicazioni precise che verranno inscritte nel bando ribadisco di leggere con molta molta attenzione le indicazioni del bando e se qualcosa non vi fosse chiaro una volta che avete deciso di volervi scrivere al nostro test ma qualche cosa non vi fosse chiaro che qualche aspetto non vi è chiaro scriveteci tranquillamente l'importante appunto è che leggiate prima con grande attenzione quello che c'è scritto nel bando anche sull'uso dei dizionari sarà scritto lì perché si chiede se c'è solamente il cartaceo comunque ci sono indicazioni ben precisi ci saranno indicazioni precise su cosa potrete fare durante il test questa registrazione è allora tempistica proprio tecnica eh direi che mi mi prendo qualche giorno magari per rivedere eh le slide eh e poi metterle anche a disposizione nel ehm nel nostro sito web con quella correzione che mi scuso ancora purtroppo mi è proprio sfuggita e raffaella non so dire quanto quanto ci vorrà penso che sia abbastanza il tempo di di caricarla immagino su sui nostri canali youtube e di solito Piero la carica nel tempo reale se non ci sono altre domande a questo punto forse possiamo interrompere questa registrazione e iniziare con la seconda parte cosa dici Adele? sarà disponibile credo sul nostro canale youtube Raffaele la registrazione chiedo a Clelia Camilla dove va a finire sul nostro canale youtube giusto? sì sì e probabilmente il link lo metteremo comunque eh nel nel sito web in modo che siate indirizzati ok troverete il richiamo per andare che vi porta al canale youtube lo troverete sul sito del corso di studio cliccando nella home page dove c'è la foto c'è un bollino sopra la foto open day il canale sarà quello troverete caricata quindi questa registrazione e in formato pdf la presentazione corretta che è stata presentata oggi sì ripeto se qualcuno non è che noi faremo faremo comunque un'altra presentazione nell'ambito della delle presentazioni online unibo dedicate proprio ai corsi di laura magistrale che si chiama magistralmente e sarà in data 20 ma ascolate 20 aprile quindi eventualmente ci sarà un'altra presentazione anche lì analoga a questa probabilmente però insomma se qualcuno avesse o avesse degli amici o delle persone interessate a cui poterlo comunicare anche quello sarà sicuramente pubblicizzata direi che possiamo Raffaella se mi dai l'ok forse possiamo chiudere qua adesso direi di sì grazie Adele grazie a tutti quanti voi grazie ragazzi per essere stati presenti e per appunto averci seguito contiamo di vedervi numerose anche durante il test arrivederci arrivederci